Matteo, ma perché un cliente dovrebbe comprare un Deutz 8.280 TTV? Che cos'è in più rispetto ai comprare? L'8.280 TTV è stato concepito sui quattro pilastri fondamentali che cerca un cliente in un trattore di questo segmento. L'affidabilità, garantita dall'utilizzo di componenti dei più quotati partner tedeschi e dalla produzione del trattore nel nuovissimo stabilimento Deutz Sfarland in Baviera. Potenza dinamica, la potenza è garantita dal motore Deutz Stage 5 dotato di doppio turbocompressore, innovativa trasmissione compound che permettono di raggiungere la velocità di 60 km orari in modalità eco con un carico massimo ammissibile di 16 tonnellate. Connettività, l'8.280 TTV è il trattore che nasce già connesso. Oltre a collegarsi perfettamente con le attrezzature attraverso ISO, Bus e Team, tutti i dati di telemetria e posizione vengono automaticamente condivisi e resi accessibili. Comfort, una cabina accogliente separata dal cofano con sospensione pneumatica che in combinazione con la sospensione del sedile e al ponte ammortizzato di nuova generazione, viene arricchita da un pacchetto luci a LED di quarta generazione da 50.000 lumen. I comandi sono facili da imparare, intuitivi nell'utilizzo e facilmente raggiungibili. Grazie a tutti.